e di 2.13 di parte economico e così è che il Departamento di Assunto Economico ha tragi duro per cui è parte che abbiamo con il nostro lavoro di red tape per red carpet se vi è via, ora abbiamo fatto con il commercio, non abbiamo con il nostro lavoro di red tape che abbiamo fatto per eliminare il red tape qui non e questo è il pensamento che abbiamo è il nostro lavoro di agilizzare la parte economica del nostro paese abbiamo fatto che abbiamo fatto il nostro lavoro di trattato non è che abbiamo fatto un rischio per il commercio nel paese ma abbiamo fatto un trattato di red carpet ciò che è che ci sarà è che abbiamo fatto un comissio che è installato e è un comissio qui tra l'altro è un comissio che è presidito per il Departamento Economico però ci sono anche abbiamo fatto una RINA qual è la RUBA Investment Agency abbiamo fatto un rappresentante del Bureau di Ministeri di Finanza di Economia e Cultura abbiamo fatto il Departamento di Dimas abbiamo fatto un comissio il Departamento di Progresso Laborale direzione di Natura e Miliei direzione di Open Bar e Work del DOV abbiamo fatto un DEP abbiamo fatto un comissio e abbiamo fatto un comissio che è parte di chi si trova di questi negozi nel Paese RUBA il Departamento Economico è stato presidito e abbiamo fatto un'idea di chi si presenta per l'idea per l'idea per assinare junto a un comissio qui venire a punto di acertare questa e questa è punto di questa trova e per l'idea di questa ora viene con una soluzione concreta per l'optimalizzare sicuro che è parte di donamento di permesso necessario per il negozio quindi la meta finale di tutto è per creare la cosa si chiama in inglese e-investment portal che è per l'idea è per l'idea che si chiama il negozio si chiama un website e un cammino è il portal qui e non indica che il negozio è per l'idea e di via via di link per l'idea qual è il permesso necessario di un cammino invece che si chiama vai a differente departamento dove vai a buscare regla e papilare non è per l'idea un portal elettronico e di non ora non passa dentro lo qual che ti metti poi è un cammino è per l'idea e non ora non è per l'idea turbo assunti non è qui non sta così passo sicuro ora che si chiama ti metti veste gente per l'idea boll per l'idea direttore si sta un restaurante bufette per l'idea di un cantidà di cose che ti metti regla e ora che non per agilizzare il processo qui non sta bene ora si usa un via ma di lo quale è inova per l'idea per l'idea nel portale qui non rinca bua informazione e via di portale qui stanno per seguire ora il processo assin per desco metà per agilizzare il processo qui per un inversionista non stanno meno dolore di